Ciao a tutti, sono Margherita Guarino e mi occupo in casto della direzione commerciale dei marchi che produciamo direttamente e che distribuiamo in tutto il mondo. Io mi occupo in sostanza di promuovere i nostri marchi e quindi una volta che il campionario è pronto, li promuoviamo presso i nostri showroom a Milano, a Parigi e a New York. Ciò vuol dire che in questa occasione incontriamo il capitale dei negozi di busso di tutto il mondo che vengono a visionare il campionario e quindi creiamo l'ordine della collezione che poi ci verranno da lì a sei mesi. Lavoro in casto da più di dieci anni. Gli aspetti positivi è sicuramente il fatto di incontrare persone completamente diverse l'una dall'altra, di viaggiare molto e di lavorare comunque con un prodotto di altissima qualità che mi metta in contatto quindi con tutto il mondo del lusso in ogni suo aspetto. Gli aspetti negativi è che si viaggia molto, nel senso che questo lavoro ovviamente ha un impatto importante sulla propria vita privata soprattutto e che bisogna avere una grande forza per affrontare tutte le problematiche che si creano spesso per motivi socio-economici nei vari territori. Grazie.